ciao giovanotto accidenti ho sentito parlare molto di te ecco io ero un buon amico di tuo padre sai siamo stati a da noi insieme in quell'inferno per oltre cinque anni speriamo che non debba fare questa esperienza anche tu ma quando due uomini si trovano in una situazione come quella vissuta da me da tuo padre per tutto il tempo che è durata ti fai carico di certe responsabilità dell'altro se fossi stato io a non farcela il maggiore curigi in questo momento starebbe parlando con mio figlio jim ma la sorte ha voluto che io parlassi con te butch ti ho portato una cosa questo orologio che ho qui fu visto e acquistato dal tuo grande bisnonno durante la prima guerra mondiale fu comprato in un negozio di cianfrusaglia a knoxville tennessee prodotto dalla prima ditta che abbia mai fatto orologi da polso fino ad allora si portavano solamente orologi da taschino si è stato comprato dal valoroso patriota harryan coolidge il giorno in cui si è imbarcato per parigi il tuo bisnonno aveva questo durante i combattimenti e non se ne è mai separato fino alla fine della guerra dopo aver fatto il suo dovere torno a casa dalla tua bisnonna si tolse l'orologio dal polso lo mise in un barattolo da caffè ed è lì che è rimasto finché tuo nonno dain coolidge non fu chiamato dal suo paese perché andasse di nuovo a servire la patria e era la seconda guerra mondiale questa volta il tuo bisnonno diede questo orologio a tuo nonno per buona sorte sfortunatamente a dain è andata peggio del suo vecchio padre lui era un marine ed è rimasto ucciso con tutti gli altri marines nella battaglia di wick island tuo nonno stava affrontando la morte lui lo sapeva nessuno di loro poteva illudersi che avrebbe mai lasciato quell'isola da vivo così tre giorni prima che i giapponesi prendessero l'isola tuo nonno chiese a un artigliere addetto alla versione militare di nome winaki un uomo mai visto prima in vita sua di consegnare al suo figlioletto da lui mai visto in carne ed ossa il suo orologio d'oro tre giorni dopo tuo nonno rimase ucciso ma winaki mantenne la sua parola alla fine della guerra andò a fare visita a tua nonna per consegnare a tuo padre bambino l'orologio del suo papà questo orologio questo orologio tuo padre lo aveva ancora al polso quando è stato abbattuto sopra a noi l'hanno catturato e messo in un campo di prigionia vietnamita sapeva che se quelli avessero visto il suo orologio gliel'avrebbero confiscato e è portato via per come la vedeva tuo padre questo orologio era tuo di diritto e che fosse dannato se quei musigiali mettevano le manacce sui beni di suo figlio così l'ha nascosto nel solo posto dove sapeva di poterlo fare nel culo per cinque lunghi anni ha tenuto l'orologio infilato nel culo poi è morto di dissenteria mi ha dato l'orologio ho nascosto questo scomodo pezzo di metallo nel sedere per due anni poi finalmente sono stato rimandato a casa dalla mia famiglia adesso giovanotto consegno a te l'orologio